Ah, sei lucente, prima vittoria, primi punti per la 3PC Civitavate che sconfigge San Feliciano quindi una bella prova da parte vostra, avete trovato questa vittoria Sì, volevamo la rivincita dopo le due partite perse abbiamo lavorato il doppio in questa settimana e ce la siamo meritata, si è visto Si è visto veramente un cambio di passo, le prime uscite con le sconfitte attente a sfruttare ogni errore dell'avversario e poi a trovare punti importanti e difendere la maniera più convincente possibile Sì, per oggi abbiamo studiato la partita tutta la settimana abbiamo lavorato sul loro modo di giocare, abbiamo cambiato il nostro e fortunatamente è andato tutto per il meglio Se giocate sempre così, posso pensare a un campionato anche di buone basi per quanto riguarda? Per ora credo che dobbiamo pensare partita per partita poi quello che viene è tutto merito nostro, insomma, dipende tutto da noi Adesso bisogna continuare così Sì, questo è l'augurio che faccio a me e alla mia squadra